Il giorno e la storia. Oggi è il 19 dicembre. 1972. Rientra la missione Apollo 17, l'ultima dell'uomo sulla luna. 1946. Ho Cimino attacca i francesi ad Anon. Inizia la guerra d'Inducini. 1996. Muore Marcello Mastroiani. Commenta il fatto del giorno Andrea Cangini, direttore del resto del Carlino e quotidiano nazionale. Oggi ho scelto di ricordare la figura di un grande giornalista, non solo sportivo, Gianni Pena. Grazie a tutti.